Un giovane agricoltore su dieci possiede una vigna, la coltivazione più diffusa nelle aziende condotte da Under 35 e quanto emerge da un'analisi del Coldiretti in occasione della degustazione di vini organizzata dai giovani imprenditori a casa Coldiretti al Vini Italy di Verona. L'elemento che caratterizza maggiormente la nuova stagione del vino italiano, continua Coldiretti, è l'attenzione verso la sostenibilità ambientale e le politiche di marketing anche attraverso l'utilizzo dei social e il rapporto con i consumatori. Una cantina Under 35 su 3 esporta all'estero contro il 20% della media generale delle aziende vitivinicoli italiane secondo il rapporto del Centro Studi di Vulga. E i giovani in vigna paiono a reggere meglio la crisi scatenata dal conflitto in Ucraina con il 53% che dichiara di avere una situazione economica soddisfacente contro il 43% del totale nazionale. Nonostante ciò, oltre un giovane su due dichiara comunque di aver registrato un calo delle vendite. Grazie. Grazie.